Parliamo di gomme con Daniele Maletti, Marketing Manager Italia di Mezzler, che ci illustra le caratteristiche del nuovo Cruistec, un pneumatico per il compatto Custom. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella. Per il comparto Custom e Tourer, Cruistec è il pneumatico in grado di trarre il meglio dalle motociclette di ieri e di oggi. Un prodotto tecnologicamente all'avanguardia, che oltre a soddisfare i criteri di sicurezza, comfort e durata, ha il suo punto di forza nella ricerca delle prestazioni. Per chi non si accontenta delle gomme di serie, ma la costante ricerca del massimo in termini di agilità, grip, velocità in curva e distanza dal resto. Abbiamo preso un modello di serie, nello specifico un Harley Davidson Street Glide Special e abbiamo sostituito le gomme di primo equipaggiamento con le nuove Cruistec di Mezzler. La tagline è Performance Perfected. Scopriamo insieme il perché. I profili più acuti rispetto allo standard del segmento, il disegno del battistrada, le mescole innovative e la specifica bimescola al posteriore, sono sinonimo di precisione nell'inserimento in curva e nel mantenimento della traiettoria, di maggior grip e sicurezza anche in condizioni di bagnare. Oggi il comparto custom ricerca quelle prestazioni che fino a ieri erano ad esclusivo pannaggio dei segmenti sportivi. Bene, Cruistec offre la guida più brillante rispetto alla diretta concorrenza da sempre concentrata sulla durata piuttosto che sul grip e sulla maneggevolezza. Il pneumatico anteriore presenta incavi divergenti alternati che attraversano la sezione centrale. L'effetto principale di questi elementi è quello di migliorare l'efficienza in frenata. Anche il disegno del pneumatico posteriore ha incavi lunghi alternati, in questo caso convergenti nella direzione di rotolamento. I dati non mentono, Cruistec ha il miglior comportamento sul bagnato del segmento e contribuisce a massimizzare gli effetti elettronici di assistenza alla guida, sempre più presenti anche sulle moto di nostro interesse. Grazie a caratteristiche tecnologiche e strutturali uniche e innovative, avrete il massimo per quanto riguarda prestazioni e piacere di guida. Al prossimo cambio gomme, pensateci!